ciao a tutti e bentornati sul canale come fare con questo nuovo video dopo un anno dall'acquisto di questo rasa erba purtroppo la lama non taglia più l'erba come dovrebbe ma la strappa facendola diventare gialla e facendola poi marcire come vedete la lama è in questo stato quindi basta prendere una lima manuale come questa che trovate su amazon e vi lascio il link nella descrizione di questo video armarvi di tanto olio di gomito e iniziare a passare tutta la lama come vedete man mano che passo sulla lama la lama torna allo suo splendore originale quindi al suo colore originale tenete presente che questo attrezzo si può utilizzare anche per gli altri attrezzi da giardino per tutto quello che taglia erba siepi e via dicendo notate le lame come tornano bianche significa che tornano anche a tagliare e adesso andremo a fare la prova vi consiglio di passarla da entrambi i lati della lama seguendo ovviamente la forma che ha già la lama stessa bisogna solo andare a pulirla e a portare fuori la parte di ferro che ormai è sotto la parte rovinata quindi si rimuove la parte rovinata e la lama torna come nuova proviamo prima queste forbici per i bordi e direi che tagliano decisamente bene e adesso è ora di provare il taglia erba vi ringrazio per aver guardato anche questo video ci vediamo al prossimo video sul canale come fare se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale alla prossima